L'analfabeta funzionale, sebbene il suo habitat naturale sia internet, esce occasionalmente in cerca di suoi simili. Tratto distintivo di questo comunissimo esemplare è la mascherina usata come puro elemento decorativo da posizionarsi sul metto. Più raro è l'avvistamento dell'esemplare con la mascherina sulla bocca e con il solo naso scoperto, ma pur sempre pronto ad abbassarla quando sta per parlare. Oh, ciao! L'analfabeta funzionale adora fantasticare su cospirazioni politico-sociali. Sì, ma tanto è tutta una prova per un colpo di Stato. E a qualsiasi obiezione avrà sempre la risposta pronta. Ma perché allora Bill Gates? Identificando il male sempre nello stesso soggetto. Loro ci vogliono così! Sua pratica comune è starnutire platealmente fuori dalla mascherina. E pulirsi nella totale incuranza di chi gli sta vicino. Una specie davvero affascinante da studiare. L'analfabeta funzionale non è assolutamente una specie in via d'estinzione, ma c'è il rischio che possa diventarlo o a causa della sua stupidità, a causa del virus o a causa mia. L'analfabeta funzionale non è assolutamente una specie in via d'estinzione. Grazie.